Dal 1 di ottobre i lavoratori che si occupano della manutenzione degli ospedali della provincia dell'Aquila cambieranno di nuovo casacca con una nuova ditta affidataria dei servizi manutentivi della ASL1. 31 addetti, il cui futuro è in bilico perché dopo tantissimi anni si trovano quasi a dover ricominciare da capo considerando che in tanti anni hanno cambiato già tante volte ditta affidataria. Circa il 50% degli addetti, secondo le prime indicazioni, passerà da un contratto a tempo indeterminato a tempo determinato. Non solo problemi occupazionali ma anche risvolti nell'erogazione dei servizi e la CGL fa presente di attendere ancora la convocazione prefettizia per il tentativo di conciliazione previsto dalla normativa sui servizi pubblici essenziali. Per questo, lavoratori e sindacato si sono ritrovati questa mattina in assemblea per riflettere sui drammatici sviluppi della vicenda che, come si diceva, potrebbe avere come epilogo la perdita strutturale del 50% circa della forza lavoro impiegata in questo servizio. Con i sindacalisti Luigi Antonetti e Cristina Santella, anche Elvira De Santis, segretario generale FIOM. Il problema riguarda i lavoratori coinvolti nei turni H24, i lavoratori che si occupano di lavori edili e poi i lavoratori, i cosiddetti caldaisti, che si occupano appunto delle manutenzioni e la gestione delle caldaie. Quello che succede, quello che a oggi è la situazione, è che praticamente il 50% della forza lavoro attualmente impiegata all'interno degli appalti, negli appalti per la manutenzione degli ospedali dell'ASL 1, domani, a partire dal 1 ottobre, potrebbe trovarsi con un contratto a tempo determinato. Ora noi facciamo davvero fatica a capire quale possa essere il problema di gestire le manutenzioni degli ospedali. Francamente non vediamo attività che abbia maggiore continuità di questo tipo di attività. Adesso il rischio è che i lavoratori che hanno 15-20 anni di esperienza lavorativa in questi ospedali, teoricamente corrono il rischio di passare da un contratto a tempo indeterminato a un contratto a tempo determinato. Perché a tempo determinato? Perché il servizio al quale verrebbero adibiti potrebbe fra un anno e un anno e mezzo non essere più erogato. Ecco quindi un problema sì occupazionale, ma anche ovviamente con impatto sul servizio erogato.